Tiziana Di Ruscio, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare questo libro difficile. E poi tra poco capiremo perché è difficile. Non ci vuole molto a comprendere perché questo è un libro difficile. La violenza non è il mio destino. Non ho pubblicato dalla casa editrice Mimesis con la prefazione di Laura Tussi, l'introduzione di Rita Trinchieri e la postfazione di Fabrizio Cracolici. Tiziana Di Ruscio, leggo nel risvolto di copertina, dopo anni di violenza domestica, ha deciso di testimoniare attivamente la propria esperienza e di promuovere azioni di sensibilizzazione, prevenzione e intervento affinché altre donne possano trovare voce e sostegno per superare il muro del silenzio e procurarsi la forza e il coraggio per ricostruire una vita di dignità e di rispetto. Tre anni fa ha dato vita all'associazione Il Nastro Rosa, che ha come obiettivo il contrasto della violenza sulle donne e i bambini. Tiziana Di Ruscio, certo che entrare nel tema di questa vicenda, ci sono diversi livelli per entrare, non certamente entreremo con la logica della curiosità, sarebbe troppo scomodo, saremmo a disagio entrare con la curiosità, ma una delle parole che sono da introdurre in questa conversazione e in molti altri aspetti della vita è una parola che qui manca, che qui manca purtroppo, ed è la parola rispetto. Tiziana Di Ruscio, questa parola è una parola difficile, rispetto, e su di lei non è stato, non è stato effettuato alcun rispetto, non è stato rispettata questa piccola e impegnativa parola. Tutto nasce perché, secondo lei? Provo a spiegare, perché ogni volta che parlo per me è un'emozione molto forte, rivivere il tutto non è così semplice, però l'ho fatto proprio per una scelta personale di poter aiutare e sostenere, che è vero, ho fatto l'associazione, e proprio la vendita di questi libri saranno per fondo associazione per aiutare chi come me sopravvive anche, e si trova anche tante porte chiuse anche dopo, quindi alla difficoltà. È accaduto questo a me perché è difficile spiegarlo, mi sono posto anche io molte domande, e devo dire che non è, molti pensano che me la sia cercata, in senso, vabbè ma tu l'hai visto, lo sapevi, in realtà queste persone cercano proprio chi è, non dico fragile perché non mi piace, ma molto sensibile e soprattutto forte allo stesso tempo, perché per loro diventa un po' la bilancio di riuscire a predominare questa forza, la forza arturia, e quindi fanno un gioco della bilancia, e si entra in questo circolo di sopravvivenza, per cui accade questo, perdiamo proprio l'orizzonte, tutto, la vita. Tiziana Di Ruscio, però vorrei riprendere quello che ha detto poco fa e te la sei cercata. Io considero questa affermazione molto volgare, molto pesante, un'affermazione che scagiona chi invece è colpevole, spostando l'attenzione e spostando la colpa anche su altre persone. Quante volte se l'è sentita dire? Di continuo, di continuo, e non solo prima, mentre e anche poi, perché molti pensano, vabbè che ci vuole, vedi che è così, vai via, non è proprio, se fosse così non esisterebbe, per cui ripeto, se riesca questo meccanismo, io devo dire a me è accaduto, dopo forse sarò brutale, però è così, la sua prima violenza sessuale, il mio corpo è diventato una bara, per cui ciò che era la vita per me era tutta morta, tutta spenta e quindi mi sono sentita in colpa io, perché non avevo forse, non ero stata in grado, in quel periodo, in quel momento ho pensato questo, non ero in grado di essere stata capace di poterdi bene, perché era una cosa che mi faceva notare molto spesso e quindi mi ritenevo io responsabile di questo fatto, di questa violenza e mi vergognavo, mi vergognavo e mi vergognavo anche di raccontare dei pregiudizi delle persone, della mia famiglia, che nessuno avrebbe più voluto di essere stata violentata, ma io posso solo dire che molti pensano, dicono è lo schiaffo, già lo schiaffo è tardi, quando avversiamo già il disagio di stare accanto a un uomo è già tardi, bisogna agire subito, andare via, mi permetto di dire questo perché lo schiaffo è tardi. Però Tiziana Di Lucio, quando lei ha subito la prima violenza, quando era ragazzina sull'androne delle scale, poi si è sentita così sporca, anche fisicamente, fuori e dentro, la paura di dirlo ai genitori, ed è facile, ed è facile dire, leggendo il suo libro, dire ma perché non ha smesso subito, perché non l'ha lasciato subito quell'uomo, perché? Sì, perché ho detto, poi entra proprio che ti è spenti, ti muore, per cui non ha più valore, la nostra vita è morta, io mi vedo con le braccia fuori, le gambe fuori, dentro una bara, quello io mi vedevo, quindi non avevo più, non ero viva, avevo perso proprio, lo definisco un omicidio dell'anima, ma era già avvenuto un omicidio della mente. Omicidio della mente, ed è una figura terribile quella che ci sta raccontando Tiziana Di Lucio, ma qui non stiamo raccontando di un romanzo, di una finzione, questo piccolo libro, dal costo di 10 euro, ed è un costo importante perché, l'ha detto poco fa in apertura di conversazione, questo va all'associazione Il Nastro Rosa, ed è un progetto importante per difendere le donne dalla violenza. Torniamo alla sua storia, Tiziana Di Lucio, nonostante tutto lei continua, e poi arriva il giorno, con grande soddisfazione di suo padre e di sua madre, lei veste l'abito da sposa. Sì, sì, premettendo che noi abbiamo avuto un grave lutto, ho perso un fratello qualche anno prima, e quindi non volevo dare, la mia mente soggettava di non voler dare un dolore anche ai miei genitori, parlando di ciò che mi era accaduto, ma nel momento che ho indossato l'abito del quale io non ho provato alcun piacere, lo dico veramente, nel momento in cui io ho visto tutta la sua famiglia, tutti insieme, ho guardato il mio papà e ho detto è finita, questi sono stati i miei pensieri, da lì è andato proprio, è finita tutta, ancora di più la mia vita. Dopo la perdita del fratello a causa della leucemia, e questo è stato un dramma familiare straordinariamente pesante, e allora forse Tiziana di Ruscio in qualche modo aver vestito l'abito da sposa, aver continuato questa storia, era anche un modo, so di usare delle parole non giuste, mi perdoni, era anche un modo forse per nascondere questa sua situazione dentro una vita familiare che era stata così distrutta dalla perdita del fratello? Sì, è che noi pensiamo che possiamo aiutare queste persone, quindi ci sacrifichiamo, tra virgolette, un po' le croce rostine, sì però promette, quindi posso aiutarlo perché sono io che non mi comporto bene, sono io che so che si arrabbia se faccio determinate cose, quindi posso cambiare io, cambia anche lui, innesca veramente un circolo talmente di sopravvivenza sottile, ma indistruttibile se noi davvero non l'aspettiamo, che è veramente evidente, cambia, cambia, noi moriamo giorno per giorno. Morire giorno per giorno dentro un matrimonio che è già un problema in partenza, perché poi lei lavorava nell'azienda di famiglia di suo marito e subito ha capito che qualcosa non funzionasse, nonostante lui comprasse vestiti per giustificare un presunto amore. Poi vengono i figli e i figli sono una presenza importante nella storia della coppia, perché rappresentano l'inizio di un progetto insieme, di un progetto che non può che coltivare futuro, ma questi bambini qua hanno visto cose veramente bruttissime e quindi hanno patito a livello psicologico, a livello fisico e anche qui la colpa si spostava da lei ai figli, perché il padre era violento non solo con lei ma anche con i figli. Ricordo per esempio una volta quando lei racconta che eravate in macchina e lui diceva io vi uccido tutti, è andato in contromano, cercava di toccare le altre macchine e poi tutto un tratto diventa di nuovo felice, normale e semplice, mentre il figlio che era seduto vicino al padre a un certo punto si gira e lei vede che aveva i goccioloni di lacrime sulla faccia, ecco questa è una delle tante situazioni che lei insieme con i suoi figli ha vissuto. Sì, verissimo, infatti è decaduta anche la patria potestà e noi abbiamo affrontato anche i processi in cui i miei figli hanno testimoniato e io assicuro che sopravvivere a quello è fortissimo, perché un conto è immaginare ma un conto è sentire quello che loro hanno vissuto e che non si può togliere, non si può cambiare, purtroppo. C'è un capitolo di questo libro, Tiziana Di Ruscio, scritto da Mizzarspecchio, che si intitola Riconoscere la violenza. Riconoscere la violenza, nel caso suo è come non riconoscerla quando ci si mette a, si apre un libro, si legge e si comprende questa storia, però quando ci sei dentro come si fa a riconoscere una violenza, Tiziana Di Ruscio? Io ho detto, infatti, prima, dalla prima sensazione di disagio, perché quando tu hai una relazione, come quando io notavo i miei genitori che tutti discutono, credo sia normale, poi a un certo punto noi li guardavamo e sorridevamo perché diventavano anche un po' comici, da questo senso di disagio, dalla gelosia che diventa morbosa, dalle privazioni che scudono dalla quotidianità, anche lavorativamente cercano di privarti, quindi se tu lavori gestiranno loro, per cui c'è anche questa violenza economica che è un macigno, molti la sottovalutano, in realtà è fortissima perché io le ho subite tutte, purtroppo. Lei le ha subite tutte, stava dicendo, purtroppo, e purtroppo lei scrive, molti forse mi accusano perché non ho reagito con violenza alle sue violenze. Anche questa accusa, oltre al resto. Sì, sì, esatto. Pronto. Ma io non potevo... Non potevo reagire perché non ero lui, la giustizia ci deve essere, non sono io che ti ripago della stessa moneta, io sono diversa, non è un abito che voglio vestire la violenza e non volevo soprattutto che i miei figli comprendessero che è giusto fare determinati atteggiamenti, cosa che hanno capito perché hanno sempre voluto andare via. La prima volta in cui, nella famosa cucina, provai ad abbracciare Tiziana, lei si scusò perché restava rigida e le era faticoso abbandonarsi a un contatto fisico così intimo, perché erano stati violati i suoi confini fisici e psicologici. E riparare un confine, imparare o reimparare a custodirlo, è un processo che richiede tempo, strumenti, sostegno, consapevolezza. E la parola sostegno, Tiziana Di Ruscio, è stata molto importante per uscire da quel tunnel. Sì, ne ho avuto veramente pochissimo. Devo dire che molti dicono, sai, ma era il 2008 che aveva iniziato a capire, ad avere, perché in fondo lo sai, ma a prendere una piccola visione di ciò che subivo e subivano i miei figli. E da lì è stato un altro, devo dire la verità, grande calvario perché sono stata io in giudizio che mi ritrovo a dover dire ma sono io l'aggressore, ma io sono la vittima. E sono stata sottoposta perché quello che si vede lo puoi giustificare, è palese, tu vedi lo schiaffo, il libido lo vedi, ma quello che non si vede raccontarlo, spiegarlo è stato difficilissimo. Io infatti oggi mi dico sempre, avevo timore di denunciare perché pensavo che le persone addidassero i miei figli come figlio di uno che è stato denunciato per violenza. Oggi devo dire che i miei figli sono addidati perché sono figli di una vittima ed è una cosa bruttissima. Però, come sostiene Fabrizio Cracolici nella postfazione, si fa una domanda, Tiziana Di Ruscio, ma che società è questa? Una società da sempre basata sulla forza maschile e la sottomissione femminile. Leggi importanti sono state scritte a tutela della donna, ma il problema di fondo rimane perché sono leggi troppo spesso pensate per cambiare tutto senza cambiare niente. Che desolazione, cambiare tutto per non cambiare niente, però la prima legge innovativa in materia di violenza sessuale risale niente meno che a febbraio del 1996. E che cosa è successo in tutto questo tempo, Tiziana Di Ruscio? Ho dovuto, nel mio caso, tutelare me e soprattutto i miei figli, perché un bambino, è vero che va aiutato, ma un bambino non è in grado di capire che ci sono delle fasi burocratiche che tu devi affrontare per poter andare via. Per cui mi sono trovata a dover dimostrare tanto, a dover trovare muri chiusi, tutti chiusi, tutti muri chiusi, tutti muri chiusi, tutti muri chiusi, e quindi all'ottare di nuovo, per paradosso all'ottare di nuovo. Dicono che sono cambiate, ma ancora c'è difficoltà perché oltre le leggi che nel mio caso, per esempio, però nel suo caso Tiziana Di Ruscio è un caso emblematico perché la violenza che le ha subito è una violenza che era sì una violenza fisica, ma arrivava anche nel suo intimo e la violenza che nasce nelle case può uccidere non solo il corpo ma anche l'anima. Lascia ferite leggo talmente profonde che il sangue non si ferma e forse continuerà a uscire per sempre, ma è importante saperlo arginare e medicare le ferite. Ma lei quando subiva violenza l'è mai passato nella mente che quella sarebbe stata l'ultima, che sarebbe morta, l'avrebbe uccisa? Certo, avevo paura, una paura immane. Avevo paura soprattutto in quel circolo era diventato che sia io che i miei figli, ognuno di noi proteggeva l'altro, per cui quando lui si accaniva su di me i miei figli chiamavano la sua attenzione e viceversa, quindi era diventato non poter pensare cosa fare, pensare di proteggerci per prima. E siamo a casa di Tiziana Di Ruscio, quindi giustamente ci sono suoni e rumori e diventa anche molto bella questa cosa perché le case vivono di persone che attraversano le varie stanze, quindi anche in questo momento Tiziana Di Ruscio e quindi siamo verso la fine di questa conversazione, la lasciamo quindi al suo tempo, dopo aver parlato del libro La violenza non è il mio destino pubblicato dalla casa editrice Mimesis. Grazie, grazie davvero Tiziana Di Ruscio per il tempo che abbiamo condiviso e questo tempo è un tempo importante perché raccontare queste cose è molto difficile soprattutto per chi le ha vissute, per chi le ha vissute certo, per noi è un'altra cosa ma per chi le ha vissute è anche una liberazione e secondo lei quanto è importante questa liberazione Tiziana? Tantissimo, è importantissimo perché adesso siamo sereni, abbiamo la nostra vita, serenità virgolette ma riusciamo a sorridere, a essere sereni e ad avere una nuova possibilità di vita. Una nuova possibilità di vita, una nuova possibilità di vita e questo è veramente molto molto bello, lei chiude il suo libro dicendo l'ignoranza e l'indifferenza che possono uccidere, ecco la violenza che lei ha subito è frutto dell'ignoranza, è frutto purtroppo anche dell'indifferenza che c'è stata e che forse subisce ancora perché l'indifferenza sicuramente è un'arma violenta, è un'arma molto violenta, dobbiamo esserne consci di questo e lei ha saputo quanto sia violenta anche l'indifferenza oltre alle violenze fisiche che ha subito. Grazie, grazie davvero Tiziana Di Ruscio. Grazie a te, grazie mille a te. Buona giornata. Buona giornata.